Ok, dobbiamo restare in possesso di questo punto! Ok, dobbiamo restare in possesso! 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 Dannazione! Dannazione! Il mio caricatore è vuoto! Ok, dobbiamo restare in possesso! Ok, dobbiamo restare in possesso! Dannazione! Ok, dobbiamo restare in possesso! Dannazione! 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 Scopritev'ì! A presto! Sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.